No, in realtà sono abbastanza contento stasera perché ieri sera finalmente a 32 anni ho fatto per la prima volta in vita mia sesso anale! Questo è l'applauso che ci vuole, grazie, grazie, bello, bello, bella esperienza, anche se devo ammetterlo mi fa ancora un po' male il culo, però sapete come sono fatto? Non si può dire di noi bambini.